Il ciclista italiano più vincente di sempre, il campione trentino Francesco Moser compie 70 anni, domani la grande festa, ma intanto Gianfranco bene in casa lo ha incontrato nella sua palù di Giovo, vediamo. Qua siete nati tutti quanti? Tutti, noi siamo nati, la stanza di mia mamma era lì, invece la cucina era lì nell'angolo e avevamo sopra tutto il fienile, tiravamo sul fieno con la carucola. Francesco Moser festeggia i suoi primi 70 anni di passione per la bici e lo fa nella sua valle di Cembra. Finché ho corso sono sempre abitato qua, ho cominciato in luglio del 69, il primo anno ho fatto una ventina di corse neanche, ho vinto due o tre volte e la più importante nel 69 è stato il campionato italiano del CSI a Vellettri. Il ciclista italiano più vincente di sempre, più di Bartali e di Coppi, il campione trentino capace di trionfare in 273 gare parla, è il caso di dire a ruota libera e gli occhi si illuminano pensando alla corsa rosa. Tre volte secondo, ho fatto terzo, ho ottenuto la maglia rosa tantissimi giorni e finalmente nell'84 all'arena sono riuscito a conquistare la maglia rosa finale e credo che quello è stato un risultato che non si può dimenticare. Moser, uno che ha osato vincere ancora oggi è un leader, un capitano vero per tutti e ancora lo sceriffo, un tipo deciso, poco avvezzo alle smancerie. Quello che conta sono i fatti, le parole contano poco, specialmente quando si corre bisogna arrivare davanti possibilmente, dicono che è importante partecipare ma è molto più importante vincere.